Il sistema di sicurezza delle scuole aquilane funziona, lo dimostra lo spiacevole episodio che si è verificato ieri nella scuola Maria Leventre di Pettino, che è costato il foglio di via da parte della questura aquilana ad una giovane donna bulgara che negli ultimi giorni si era resa già protagonista di diversi fatti in città, quanto se ne sa. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Patini, Gilberto Marimpietri, ieri ha voluto con una circolare rassicurare tutti, in quanto la donna non ha potuto avvicinarsi in nessun modo a nessun bambino, grazie alla prontezza e professionalità del personale della scuola. La donna infatti si è solo avvicinata al front office della primaria, dove il personale l'ha invitata una prima volta ad allontanarsi, è restato confusionale a quanto pare. La donna, secondo la ricostruzione dei fatti, ha provato nuovamente ad accedere da un altro lato dell'Istituto e anche lì è stata invitata da una docente ad andar via, docente che ha allertato poi prontamente la polizia, che si è subito presentata con una volante sul posto, identificando la donna. Un sistema quindi, che grazie all'organizzazione interna, che non permette, se non autorizzata a nessuno di entrare a scuola, ha funzionato alla grande, evitando qualsiasi contatto tra la donna e i bambini della scuola. Assolutamente non è entrata in contatto con nessun bambino, ha funzionato benissimo il sistema di prevenzione che abbiamo, anzi ringrazio tutto il personale scolastico, il Stuto Comprensivo Patini, oltre di Maria Leventre, per la professionalità e comunque hanno gestito il tutto. La scuola ha funzionato bene, abbiamo gestito con la massima oculatezza e professionalità la situazione. Diciamo pure che nelle nostre scuole non entra nessuno senza autorizzazione, si è molto attenti a questo aspetto? Assolutamente sì, le nostre scuole non si entra senza autorizzazione, bisogna avere l'autorizzazione del dirigente scolastico e noi siamo molto attenti e rispettosi delle procedure, tutti i giorni, ogni giorno perché noi abbiamo a cuore chiaramente la sicurezza e il benessere dei nostri bambini. I genitori possono stare sereni? Devono stare sereni, ho anche scritto una comunicazione a tutti i genitori, a tutto il personale della scuola, dove ho ricostruito un'attenzione in maniera anche molto semplice quanto è accaduto.